Buon pomeriggio Il grande numero qua di Pigi Sigona Ha anticipato tutti un gol alla sua maniera Di rapidità, di classe Pierluigi Sigona sblocca il punteggio al minuto 19 Rivalorese 0, Cogoleto 1 Allontana il pallone Traverso Poi Lollan Selmo cerca il numero E qua Traverso riesce a indietreggiare Ha cercato un altro Eurogoal Lollan Selmo Momento favorevole al Cogoleto Mette giù il pallone Anselmo aspetta i rinforzi Li trova naturalmente in Sigona Parte Ceccarelli Posizione regolare secondo il collaboratore E qua è bravissimo Traverso Poi ancora Ceccarelli La grande occasione La grande chance del 2-0 Siamo arrivati alla mezz'ora al Cogoleto Attenzione qua Anselmo Rieschia Salvetti C'è anche il portiere Finisce a terra Interviene l'arbitro Tutto regolare Episodio Da rivedere Nel replay Che vi stiamo fornendo Questo intervento sospetto Sul Lollo Anselmo Arriva il duplice Fischio Si va negli spogliatoi Rivalorese 0 Cogoleto 1 Anselmo Riesce a toccare Verso Ceccarelli Dentro l'area di rigore Ceccarelli La conclusione Ha schiacciato troppo Si è mangiato il 2-0 Paolo Ceccarelli Consegnando in pratica Il pallone attraverso Ancora Rosati Limite dell'area Cerchiato dalle maglie Del Cogoleto Smista verso la Monica Prova a pescare dentro Belfiore Poi Pastorino Il pareggio Della Rivalorese A sorpresa Marco Pastorino Rimette tutto Sui binari Della parità Questo lancio Verso Anselmo Posizione regolare L'uscita del portiere Guardiamo l'arbitro Cosa decide Allargano le braccia I giocatori del Cogoleto Ha cerchiato L'arbitro d'amico Dopo questo intervento L'arbitro va verso Il collaboratore Sotto la spinta Dei giocatori del Cogoleto E allora adesso Si che l'arbitro Ha indicato Gli 11 metri Siamo al minuto 25 Lollo Anselmo Contro Ettore Traverso Parte la rincorsa Di Anselmo E il pallone sul fondo Sbaglia il calcio Di rigore Lollo Anselmo Rimane in piedi La Rivalorese Arriva adesso Il triplice fischio Dopo una gara Molto combattuta Finisce 1 a 1 Tra Rivalorese E Cogoleto Ha avuto tante occasioni Il Cogoleto Compreso il calcio Di rigore Fallito da Anselmo Alla fine però La Rivalorese Col cuore Ha centrato L'1 a 1 La Rivalorese Grazie.